Baird! Non riusciamo a fermarlo! Usa il martello, radiofari o no? Non posso! Senza coordinate distruggerò voi e mezza città! Aspetta! Cosa? Jack... No, no, no! Jack! Che stai facendo? Baird! Che succede? Eh, Jack! Sta trasmettendo le coordinate dei radiofari! Ha disattivato i miei comandi di fuoco! What? Intelligentissimo bastarda! Cultivate! Cultivate lo! Baird! Grazie a tutti. 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 Lo so. Ma non se riusciamo a trovarla prima noi. Grazie a tutti. Ritornerà. Lo so. Ma non se riusciamo a trovarla prima noi.